C'è malcontento tra i fanesi nel vedere che la città non è ancora in ordine nonostante l'arrivo della bella stagione. Ieri si è celebrata la festa della Repubblica e sono stati tanti turisti che hanno deciso di fare una passeggiata in zona mare. Ma chi si è recato nel molo tra la spiaggia del Lido di Fano e quella dell'Arzilla ha notato uno stato di incuria lungo la passerella. Come potete vedere dalle immagini tra gli scogli sono presenti bottiglie di plastica, cartacce, contenitori vuoti di detersivo e sporcizia varia. Inoltre è pieno di rami secchi e cespugli da cima a fondo. Inoltre più volte i fanesi turisti che passano le loro vacanze a Fano avevano lanciato un appello all'amministrazione comunale tramite Fano TV chiedendo di sistemare la passerella corrosa dalla salsedine e sempre più fastidiosa da calpestare a piedi nudi. Sono troppi infatti i sassi che fuoriescono dalla pavimentazione, avevano raccontato, per poter passeggiare senza scarpe o sandali. Io sono ritornato a Fano da quasi circa 11 anni ed è da 11 anni che è così. Una volta non era, quando ero ragazzino io era tutto diverso, era tutto molto più semplice, d'accordo, però non c'erano queste cose qui. Ed era anche meno doloroso camminare? Senza dubbio, senza dubbio, anche perché magari noi le scarpe all'epoca non le avevamo, avevamo i piedi che ci consentivano di passare sopra quelle cose lì, ma oggi giorno io stesso faccio fatica a camminare. Se lungo il tratto di ciclabile Fano Fosso sei ore, le bacce che invadevano la pista sono state tagliate, continua lo stato di incuria alla darsena borghese, dove regna il grave stato di degrado in cui si trova ormai da tempo la balaustra. In più spuntano anche cespugli d'erbe scritte con un pennarello nero. Inoltre si attende ancora il trasferimento delle vele che saranno spostate all'altezza di Gimarra, per cui si attende solo l'ultimo permesso delle ferrovie.